Musica Bella a tutti ragazzi, qui è Ron e benissimo qui col secondo episodio della serie in vanilla insieme a DJ Spunker Yeah bello, ciao Allora, prima di cominciare l'episodio facciamo vedere cosa abbiamo fatto Allora abbiamo allargato un pochetto la casetta Aia Ragno, ragno, mi sta piccendo il ragno E Spunker ha fatto queste scalette che vanno giù Due scalini vabbè Perché dopo vi spiegherò perché ho fatto così e vi farò anche vedere Ecco, poi vabbè ha messo la scaletta qui Aia E ho raccolto dei semini io e poi ha fatto sta scalinata Ho allargato qui, ho allargato E ho allargato un po' qua Adesso vi faccio vedere Adesso vi faccio vedere Adesso mi 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 faccio vedere Adesso mentre lui mette le scalini Io vado a cercare un pochetto il ferro Che dici? Va bene Perché ci serve per fare la coltivazione Yes Io vado a fare un giretto qua dietro dove c'è la lava Prima cosa che faremo è grano Esatto Io c'ho già 13 semini Qui è pieno di pecore Pieno Appunto dobbiamo cercare di fare le Almeno prenderne due Ok Allora ragazzi vi metto le torce così Vedete Tu racconta mentre cosa stai facendo così Ma io sto mettendo le scalette Niente di che Farò Anche delle scale che scendono Comunque ragazzi È ufficiale Entrano nella serie Due persone Perché ti ha già risposto No Però è ufficiale Cosa è ufficiale È ufficiale Dunque è toro È proprio Da ammazzare Vabbè È proprio da ammazzare Viene viene Posso riniziare? Eccoci ragazzi Eccoci Allora io sto scavando Aspetta che Però mi si è rotta la piccola alza Muore Adesso faccio le scalette che scendono sotto eh Eh quindi Dove andare a casa Ma non potete Ah boh dai me lo faccio qui un attimo Che cosa? Il piccola Allora Prendo sto alberetto Bianco E' fatta la scalinata Sto facendo Sto facendo Io ho finito la carne Quindi No Ok Qua non mi piace Non fare bastoncini Che ne ho più di 30 No Più che bastoncini Mi serve Ok ho risolto Vola Ok Ok Non mi piace Non ti piace Aspetta Aspetta Ok 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 Perfetto Ok Perfetto Ok 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 E' sto andando sempre avanti Ehm Non trovo una beata fava Di nulla Ok Ok vale da prendere Da cobblestone Ti piacciono le fave? Mmm Nah Non trovo un cazzo Cobblestone Cobblestone Ah piava pure Bello Me le diamo? No no Lascia non si trova niente carbone prendo però ci serve il ferro e voilà ho fatto la scaletta che scende sotto ho fatto un piccone sicuramente la rifaccio però per il momento va così per il momento va bene fatto la scaletta fatti un piccone e ti fatti da me così scavi un po ci sono già due di piccone solo che mi serve cibo vieni qua allora cerchiamo il ferro veloce allora aspetto ti tipo io no 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 un attimo un attimo uiii io vado giù tu fai altro ma faccio e scava da qualche altra parte vabbè naturalmente poi non lasciamo per tornare a casa ma fa niente ragazzi ancora carbone solo carbone si trova io sono pietra vabbè c'è la pia io adesso c'è la bufaiola mentre mi scrivono su whatsapp mentre mi scrivono su whatsapp vabbè 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 io vi ho fatto caso che ce l'ho scritto sotto i minuti che sta registrato davvero s sentimente vabbè vabbè perchè d'abbè però ho stoppato se non mi sbaglio ms Er quindi ma io non toghi niente comunque poche volte lb anzi ragazzi fateci sapere voi se volete vedere i tagli salmonno io preferisco non tagliare niente vabbè ma tu puoi stoppare cazzo io no ci puoi mettere in pausa io non preferisco non tagliare niente ma l'ho trovato un pezzo di ferro madonna manco io c'è un cazzo vi faccio due piccani oh si trovato oh perfetto uno ce l'abbiamo a casa si però aspetta andiamo a neanche fa anche se al giugamento ci dobbiamo tornare però vabbè già che siamo qui scaviamo dici cerca solo di non fare troppo il video al buio c'è la torcia 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 e come dovrei uscire adesso eh di fianco davanti 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 cazzo è più di uno stocco di carbone vai 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 via 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 sei a casa? ma non sei a casa? non a casa ma che cazzo dici ma che se ti vedo lì sopra ma che cosa? ma se ti vedo lì sopra ma si io sto a casa che cazzo dici? sto vicino a casa sto fuori dalla porta vabbè da alzicare la lava fa cura questione lo sapevo l'ho visto la lava allora metti al filo cosi oltre cipo e facciamolo allora come facciamo? eh c'è i semi a parte che piove appunto vado a prendere l'acqua la porta chiudila però no eh devo uscire anche io allora l'erano l'acqua l'ho trovata prima non so più dove cazze oh 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 o l'acqua l'acqua così stiamo fuori casa che ci sta tutta la grave di merda non mi piace dopo quello no sto facendo adesso ma qui ci sono galline mucca possiamo già fare eh ma portarle qua su ecco già le mi porto le mucca e le cose qua le galline eh ma io non ci devo fare recinta aspetta ti ha fottuto una c'è perfetto un attimo che vado a fa sì ma sotto la dovevi lasciarle perché si porta qua sopra ma che cazzo ne so io eh non vuoi fa sotto facciamolo sotto fai un buco per il momento dobbiamo do spai do spianà eh to se lento bravo perfetto dove sei che so qua dai ok è uno no di qua vabbè guarda sta scappando la mucca allora l'altra allora la mucca metti per il momento vabbè aspetta c'abbiamo le galline già due ne abbiamo allora la mucca no di qua mucca vieni oh che coglione ti ho dato no so caduto di sotto levati no è uscita la gallina no no fanculo sta laggando non sta laggando per quanto è uscita la gallina dove sta gallina di merda vuoi entrare qua entro porca vacca perché c'è i cuori mi ho dato il semino porca puttana spingi spingi chiudi ok la mucca dov'è ha cagato l'uovo si c'è una una pure oh che culo e' un po' se c'è un cuore io vabbè lasciamoli lì comunque vabbè la mucca la mucca la mucca la mucca la mucca la mucca 10 minuti già cazzo stoppiamo no finiamo allora eeeh facciamola farm di grano dai si ma stoppiamo facciamo la prossima vita perchè già sono 10 minuti poi non ce la faccio a caricarli io la pannezziana che mi ritrovo vieni a casa ok ok già sono 11 dai muovi ah tu ci sei aspetta niente vai aspetta mettendo a posto ok e vabbè ragazzi questo video è finito e ci seguiamo alla prossima bella bella